Sembrano uno sbiadito ricordo le immagini di una città desolatamente vuota durante i periodi di chiusura legati al covid. In questo Ponte Pasquale 2022 Salerno è tornata ad accogliere migliaia di persone. Il Lue di Dell'Angelo per tanti è stata l'occasione per vivere pienamente la città, naturalmente per chi è salernitano, per altri l'opportunità per conoscerla trascorrendo alcune ore. I chilometri del lungomare compreso dalla spiaggia di Santa Teresa a Mercatello, pieni di persone di ogni età, desiderose di godersi un po' di relax passeggiando a ridosso del mare. Affari importanti per gli esercizi commerciali, in particolar modo per barri e ristoranti. Difficile trovare posto nel capoluogo per il prazzo di Pasquetta, insomma un ritorno all'antico, traffico compreso, un ritorno a quella normalità mancata in questi anni a causa della pandemia. Pasquetta a Salerno? Sì, 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 Pasquetta a Salerno, è meglio stare qui, godersi questo poco di sole che è uscito. Lei è di Salerno? Sì, Salerno. Tranquillità? Tranquillità, perfetta tranquillità. È bello anche rivedere il lungomare affollato dopo due festività pasquali caratterizzate negli ultimi due anni dal Covid. Certo, certo, l'aria aperta si sta sempre meglio. La giornata è fantastica, è molto bella, ci stanno un sacco di persone e finalmente si esce, finalmente respiriamo un po' di aria di mare perché siamo stati troppo tempo chiusi, però è bello, c'è una rinascita diciamo. Si riscopre anche credo il gusto della semplicità, una semplice passeggiata. Certo, una semplice passeggiata che però è tanto, dopo tanto tempo chiusi e adesso si incomincia, cioè la Pasqua è proprio come rinascita. Come trascorrerete questa giornata? Ma passeggiando, poi andiamo a casa e quindi ci riposiamo un po' che poi domani... Stare senza mascherina è una gran bella sorpresa. Sì, sì, infatti. Da dove venite? Da Brindisi. Come trovate la città? Bella, bella, pensavamo veramente più caotica, invece si sta bene. Siete soltanto per questa giornata? Solo oggi, solo oggi. Come trascorrerete tutto il tempo? No, facciamo una passeggiata, adesso andiamo a mangiare qualcosa e basta. E la città? Avete visto qualcosa? Ah, il Duomo abbiamo visto, basta per adesso. È una bella giornata, è una bella giornata tranquilla, sì, è una bella passeggiata. Il Bungomare che cosa ne pensa? No, è bella, è una bella città. Alza la pena dalla Puglia a Salerno? Sì, vabbè, la Puglia è la Puglia però.